Sui meandri dei social network, i due giovani si sono palesati in un'esposizione digitale congiunta. In questa stagione estiva che avvolge la dimora della famiglia di Flavio Briatore, serenità è la parola d'ordine. Al centro dell'attenzione si erigono i figli, Nathan Falco e Lenny Klum, protagonisti di una recente serie di condivisioni virtuali. Un'aura spensierata permia gli istanti condivisi dai due fratellastri. Tra le onde di un mare navigato e i pasti festosi che si scorgono nelle immagini poste in mostra su Instagram. Tra queste, spicca un'inquadratura che ha intrappolato l'interesse dei seguaci, un abbraccio fraterno tra Lenny Klum, la diciannovenne, e il fratello Nathan Falco, le loro espressioni lumeggiate da sorrisi rivolti all'obiettivo. La giovane ha lanciato un quesito cruciale. Avvertite la somiglianza! Un'interrogazione che ha innescato una miriade di risposte, un coro di voci provenienti dai suoi milioni di seguaci su Instagram. Nathan Falco e Lenny Klum, una relazione fraterna fuori dall'ordinario. I commenti dei fan trasudano ammirazione per l'intesa palpabile tra questi due fratelli e per l'immagine di una famiglia allargata che riflette una pace interiore. Che gioia veder voi due insieme! C'è una somiglianza notevole. Siete due gemme di fratelli. Sono solo alcune delle dediche pervenute in risposta all'interrogativo lanciato da Lenny. Inoltre, occhi acuti hanno notato come Nathan Falco, un tredicenne, presenti tratti che ricordano sua madre, Elisabetta Gregoraci, la quale lo ha definito il mio preferito, in una recente fotografia. Sebbene Flavio Briatore non abbia mai riconosciuto pubblicamente Lenny, una decisione presa di concerto con la madre, Heidi Klum, che l'ha allevata insieme al cantante Seal, il legame tra padre e figlia è sempre stato caldo e affettuoso. In passato, Briatore ha affermato, sono orgoglioso di lei, il mio affetto per lei non è minore di quello per Falco. Inoltre, ha esultato per il legame che si è instaurato tra i suoi due figli nel corso del tempo, rivelando come avessero condiviso la verità sulla paternità con Lenny. Le abbiamo detto quando era pronta, un paio di anni fa, e lei ha detto, papà, lo sapevo già. Dopotutto, i ragazzi in questo momento si rivolgono a Google e scoprono tutto. Voi sapevate della figlia di Briatore? Vi piace questa famiglia allargata? Fatecelo sapere nei commenti! Lasciate un commento al video e un bel mi piace! Arrivederci!